Apprendo che un museo francese, imitando peraltro il grande museo del Louvre, ha deciso che d'ora in avanti non saranno più usati i numeri romani per indicare i nomi dei re, per indicare i nomi dei secoli. Sapete che ci sono delle regole nella scrittura, per cui se noi diciamo Umberto II facciamo Umberto più due gambette, che sono poi due I maiuscole, corrispondente al 2 dei numeri romani. E questo perché sempre nella tradizione il numero romano stava a indicare l'importanza di una realtà. Il secolo, il nome di un re, gli elenchi dei re, dei papi. Se pensiamo a Giovanni XXIII, si scrive Giovanni 2X e poi tre barre per indicare il 23. Bene, il museo del Louvre e un altro museo importante di Parigi hanno detto che d'ora in avanti non si useranno più i numeri romani, si useranno i numeri arabi, quelli che usiamo tutti i giorni per fare i conti, per segnarci quante spese abbiamo fatto durante la settimana. E questo, sapete qual è la motivazione? La motivazione è molto semplice, perché siccome la gente è ignorante, noi non vogliamo creare difficoltà alla gente, ma la gente deve poter leggere e capire immediatamente, senza sforzo. Apprezzo il nobile intento, però la memoria mia va alle mie radici povere e soprattutto va ancora alla grande povertà culturale che mi porto dentro, però con una coscienza precisa, che a piccoli passi tutti possono camminare in avanti, anziché ridurre lo spazio della cultura. Perché non aiutiamo la gente ad allargarla?